Le aziende del comparto ittico italiane che operano nel settore delle vongole rischiano il collasso a causa della possibilità del mancato rinnovo di una deroga da parte dell'Unione Europea e che ha scatenato un braccio di ferro con i colleghi spagnoli. Un settore strategico in Italia questo che conta oltre 700 imprese con 1600 addetti e l'Italia da anni si contende con la Spagna il primato di maggior produttore di vongole a livello continentale. La differenza al di là dei quantitativi immessi sul mercato sta nel fatto che l'Adriatico è l'unico posto in Europa per determinate condizioni dell'ecosistema marino dove è consentito pescare le vongole con una dimensione minima di 22 mm anziché 25 come avviene nel resto d'Europa. Supportando poi con dati scientifici questa possibilità ogni tre anni questa deroga veniva rinnovata per il bacino dell'Adriatico. Ma ora il tavolo rischia di saltare perché la Spagna spinge affinché questa possibilità per l'Adriatico venga abolita. Una lotta tutta spostata a Strasburgo con i deputati europei spagnoli che voteranno per l'abolizione della concessione ma che si sposterà immancabilmente con una crisi occupazionale su tutte le coste adriatiche. Compartimento marittimo fanese compreso con grande preoccupazione di tutti. Su questa cosa si era trovata una sintesi. Adesso il timore alzato da quello sollevato dai pescatori italiani è che siccome il 31-12 scade il triennio di deroga delle normative quadro europee e gli italiani potrebbero, se in carenza di deroga, potrebbero tornare a pescare prodotto da 25 ml e questo riaprirebbe una serie di problemi anche da un punto di vista ambientale. Per noi è veramente un problema perché significherebbe mettere a rischio intanto le 56 imprese del compartimento marittimo di Pesaro ma anche quelle di Ancona dove avevamo diversi operatori fanesi. Ma nel contesto le 710 imprese italiane significa 2.000 occupati diretti e quasi 10.000 occupati con l'indotto. Economicamente in termini di volume d'affari che botta sarebbe per il saldo attivo del comparto? Non ho contezza di quanto è. Le nostre produzioni arrivano intorno ai 45.000 tonnellate contro le 6-7.000 tonnellate degli spagnoli. Gli spagnoli hanno paura di questa enormità di prodotto perché noi esportiamo in Spagna circa il 46-47% della nostra produzione nazionale.